Ehm, so che non è bello ma inizieremo con un pezzo triste. Grazie. L'ho sentito. Con questa pioggia nei capelli perché lo fai? Con questi occhi un po' fanciulli e un po' marinai. Era una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai. Perché lo fai disperata ragazza mia? E questa è l'ultima canzone che mi ha curato, il vincitore della passata edizione con questi amici. Cantò, prima di conoscere, un uomo straordinario. Un uomo che pensava di essere santo, no? Non lo era. Un uomo che pensava di essere santo, no? Non lo era. Un uomo che, soprattutto, mi cade molto. Pensava... Ma ho mantenuto l'eccitazione. Di essere santo, ma era solo di vicenza. E' un uomo che pensava di essere santo. E' un uomo che pensava di essere santo. Sono santo! Sono santo! Sono santo! Sono santo! E' un uomo, quello prestato. Ferratano i morti, riguardami un mobile. Voglio il combustibile! E' un'azienda debole. Pinchami e riderami. Quasi da fermare poi, sbucciami me, quasi con dolore, mi piace di male, dentro un ascensore, con un ferroviere, dentro un ascensore, con un ferroviere, non ci devi stare. Non devi pensare di essere santo, non devi pensare di essere santo, diretti Vincenzo per farlo per questo, non devi pensare di essere santo, dai, ritami le chiavi nell'auto, ti guardiamo di darmi le chiavi nell'auto, e senti che punto che viene da dentro, si vede che ancora una volta hai fatto un grosso Vincenzo. Come un pazzo, di piccio, vestito, come un pupazzo, che pazzo, comunque, ti abbraccio.